amici di fano tv ben trovati nello speciale di questa sera si parla di politica e lo facciamo con il nostro ospite in studio renato claudio minardi ben trovato buonasera 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 a tutti ho il piacere di presentarla con un breve scursus che riguarda la sua vita personale e anche professionale dunque lei nasce a cecina nel 1960 si laurea all'università di urbino in giurisprudenza ed è un funzionario di poste italiane vive a fano ed è coniugato con anna maria con cui ha una figlia di 29 anni consigliere regionale uscente con impegno e dedizione ha svolto il suo mandato dal 2015 al 2020 tra l'altro ricoprendo anche il ruolo di vicepresidente dell'assemblea legislativa e anche di componente della prima commissione permanente quindi quella degli affari istituzionali dell'istruzione della cultura la programmazione e il bilancio dunque la vita politica lei l'ha svolta proprio con tanta passione e dedizione e questo le ha dato il modo di maturare un'esperienza tale che unita alla capacità comunque di risolvere le problematiche dei cittadini l'ha portata proprio a stretto contatto con la gente ed è per questo che lo slogan e la frase che meglio la rappresenta è tra la gente e per la gente questo significa impegno rispetto coerenza e gentilezza insomma sono dei requisiti fondamentali nel rapporto diciamo con con il pubblico dunque in questi cinque anni sono tanti i temi che lei ha portato avanti battendosi partirei dalla cultura sono state introdotte varie varie leggi interessanti quella della promozione del libro e della lettura la riforma dell'erdis per il diritto allo studio la legge contro il cyberbullismo e anche la legge per istituire un parlamento degli studenti non ultimo il sostegno dell'affitto per gli studenti universitari perché le famiglie anche in fase del lockdown si sono trovate a sostenere questa spesa quindi da sempre lei è stato molto vicino ai giovani per il futuro in che maniera intende rivolgersi a loro ma intanto bisogna dire da subito che i giovani sono il futuro sui giovani bisogna investire ai giovani bisogna creare grandi opportunità e se si crede nei giovani bisogna costruire un mondo un mondo migliore assolutamente basato prima di tutto sul rispetto dell'ambiente sulla tutela dell'ambiente perché come dico sempre il pianeta sul quale stiamo vivendo lo abbiamo avuto in prestito non è il nostro e dobbiamo tutelarlo anche per le future generazioni e quindi anche per i giovani dobbiamo guardare quindi l'ambiente la tutela dell'ambiente la costruzione di una economia che sia rispettosa quindi un'economia circolare investimenti sulle tecnologie sull'industria 4.0 e quindi i giovani sono davvero il futuro e su di loro bisogna costruire tante opportunità e delle opportunità proprio per creare loro condizioni migliori di lavoro e opportunità di lavoro ecco perché nella programmazione dei fondi europei del futuro dovremo guardare con molta attenzione proprio quei settori tecnologici innovativi di ricerca che possano creare grandi opportunità da una parte alle imprese ma poi le imprese creano condizioni di lavoro per i giovani poi abbiamo guardato con molta attenzione in questi anni anche alla crescita, alla cultura abbiamo fatto la riforma degli ERSU che oggi è un ente unico regionale del diritto allo studio che si chiama ERDIS che ha creato maggiori opportunità agli studenti universitari in tutta la regione Marche, oggi tutti coloro che hanno diritto hanno l'assegno per la borsa di studio cosa che prima non accadeva e quindi c'erano giovani e ragazzi e ragazze che ne avevano diritto ma non riuscivano a poter affruire dell'assegno della borsa di studio quindi abbiamo fatto una cosa buona, abbiamo elevato all'eccellenza la qualità dei servizi prendendo a riferimento il modello Urbino che nella regione Marche è un modello che funziona che ha funzionato ed era sicuramente avanzato abbiamo fatto in modo che questo modello Urbino funzionante diventasse un modello anche per gli altri Atenei Ancona, Macerata e Camerino una cosa su cui vorrei dire qualcosa è la legge quella sulla promozione del libro e della lettura è una legge sulla quale ho creduto sono di Fano e quindi a Fano ci sono anche tanti eventi legati al libro e alla lettura passaggi festival, letteraria, Urbino che legge sono tanti eventi importanti ma con una consapevolezza che se vogliamo costruire una società migliore e quindi riguarda ovviamente anche il futuro e quindi riguarda i giovani bisogna sapere, bisogna conoscere e per sapere conoscere bisogna leggere ecco la legge su cui ho lavorato della quale sono stato primo firmatario, relatore e anche promotore vuol incentivare la lettura per creare una società più consapevole una società che legge, una società che conosce una società che riesce a creare un giudizio critico su ciò che le accade intorno e quindi si è meno esposti alle false notizie, alle fake news che girano in particolar modo in rete quindi credo che sia una bella opportunità anche per evitare l'esclusione sociale che credo che sia un diritto che tutti possano sapere, possano conoscere e possano avere le stesse opportunità da ultimo ma non è l'ultima cosa vorrei ricordare per esempio anche la creazione del Parlamento degli Studenti su cui abbiamo lavorato in questi anni è un'occasione per avvicinare i giovani alle istituzioni per avvicinarli alla democrazia per avvicinarli ai luoghi dove si prendono le decisioni per la comunità e quindi il Parlamento degli Studenti che è un Parlamento che sta partendo in questo periodo che la legge è recente deve creare le condizioni ai giovani di conoscere, capire come funziona gli enti a partire dalla Regione dove si fanno le scelte importanti e questo è un modo per incentivarli ad avvicinarci alla vita politica io dico questo ai giovani, lo dico sempre non abbiate paura di avvicinarvi alla politica non importa per quale partito, non importa per quale parte politica avvicinatevi alla politica perché nella politica intanto c'è anche tanto volontariato tantissimo volontariato la politica è il luogo dove si prendono le decisioni si prendono le decisioni per gli altri, per la comunità per il territorio, per quei territori che ti hanno dato fiducia che ti hanno eletto e quindi c'è il bello di lavorare per gli altri e di fare le scelte che poi saranno sotto gli occhi di tutti quindi non importa per chi ma fate politica, avvicinatevi alla politica nel suo programma elettorale un'altra priorità riguarda il lavoro e quindi dobbiamo sottolineare il ruolo incisivo suo e del suo impegno per mantenere i livelli occupazionali e naturalmente la sede aziendale di Saipem una realtà concreta e presente fondamentale nel nostro territorio perché offre lavoro ad oltre mille dipendenti a cui si aggiungono altri duemila lavoratori dell'indotto altra questione delicata poi il passaggio Oshan-Conad perché anche lì è intervenuto a difesa naturalmente dei lavoratori scongiurando il rischio di ridimensionamento del personale questo a tutela dei lavoratori e dei consumatori per il futuro che cosa si intende fare? come si intende procedere? ma è chiaro che l'occupazione e il lavoro sono assolutamente fondamentali per la società, per l'economia, per lo sviluppo ma anche per la tenuta sociale ci abbiamo messo la faccia nella battaglia per il mantenimento della sede di Saipem non era scontato il risultato perché in quel momento Saipem stava facendo un'operazione a livello internazionale la sede di Fano era molto molto a rischio abbiamo fatto una battaglia in prima persona, ci abbiamo messo la faccia abbiamo utilizzato tutti i livelli istituzionali a partire dalla regione abbiamo coinvolto anche i nostri parlamentari e siamo riusciti in questo importante obiettivo quello di mantenere la sede Saipem a Fano che è occupazione, che è lavoro, che è visibilità anche perché il centro di progettazione di Fano è davvero una eccellenza a livello non solo italiano ma a livello internazionale per tutto il gruppo di Saipem stessa cosa abbiamo fatto anche quando c'è stato il passaggio di proprietà fra Oshan e Conad ovviamente c'era il rischio che una parte dei posti di lavoro fossero messi in discussione abbiamo evitato questo, abbiamo fatto di tutto a fianco delle rappresentanze sindacali per difendere i posti di lavoro sulla sede di Fano ci siamo riusciti ancora c'è una parte in discussione che riguarda altre sedi nelle Marche, in particolare quella di Osimo ma credo che il lavoro che abbiamo fatto per Fano possa portare dei benefici anche alle altre sedi credo che l'occupazione sia fondamentale e quando dico che l'occupazione è fondamentale lo dico anche in funzione della manovra che abbiamo fatto io nel pieno della gestione dell'emergenza sanitaria ho presentato una mozione il 6 aprile quindi ero ancora nel pieno dell'emergenza Covid una mozione che chiedeva alla giunta regionale di attivarsi con una manovra importante per dare risposte adeguate al sistema economico con la consapevolezza che al termine dell'emergenza sanitaria sarebbe scoppiata quella economica e c'era bisogno di dare delle risposte immediate in tempi assolutamente veloci da quella mozione è nata la manovra che ha previsto prima un astanziamento di 150 milioni poi in verità sono arrivati a 210 queste risorse sono state erogate quasi tutte fra la fine di giugno, il mese di luglio e le prime settimane del mese di agosto e con questa consapevolezza, ecco perché parlo di lavoro perché mettere delle risorse regionali in campo per dare una mano al sistema economico significava difendere i posti di lavoro e quindi le aziende che riprendono che avevano da affrontare i costi fissi avevano da affrontare i problemi di liquidità avevano bisogno di un supporto e di un sostegno le abbiamo sostenute per evitare che poi quelle aziende perdessero posti di lavoro e poi quei posti di lavoro il pubblico avrebbe dovuto comunque compensarlo con la cassa integrazione e quindi la tenuta dei posti di lavoro era fondamentale ecco la manovra che abbiamo varato una manovra da 210 milioni una manovra importante che ha visto tanti settori occupati il turismo, l'artigianato le parrucchiere, i barbieri le estetiste, il mondo dello spettacolo tutta la ristorazione la cooperazione sociale le organizzazioni sportive gli artigiani tutti i settori che erano in sofferenza a partire da quelli che facevano più difficoltà ripartire tra cui anche per esempio il sostegno alle famiglie per sostenere gli affitti universitari a coloro che ovviamente avevano contratti in essere su questo abbiamo messo per esempio 4 milioni di euro sono risposte importanti è una manovra straordinaria mai varata nella storia dalla regione Marche è una delle manovre più importanti varate a livello nazionale credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro sono anche orgoglioso di averla spinta e stimolata perché credo che il sistema economico marchigiano abbia adeguatamente ripreso non dobbiamo abbassare la guardia ma credo che questo sostegno sia stato assolutamente utile per ripartire quanto meno con meno difficoltà Lei Minardi ha portato anche diverse risorse alla città di Fano a partire dal suo contributo per la difesa della costa e naturalmente il dragaggio del porto quindi direi di parlarne è doveroso Beh, in questi anni abbiamo lavorato davvero tanto ho ricoperto il ruolo da consigliere regionale vicepresidente dell'assemblea legislativa lavorando sicuramente per Fano ma ho lavorato tanto anche per il resto del territorio a Fano c'era una partita aperta che era quella della difesa della costa e del dragaggio del porto abbiamo portato risorse per la difesa della costa per circa 10 milioni di euro il dragaggio del porto che aveva problemi da anni ha visto i finanziamenti per oltre 2 milioni e di fatto siamo riusciti a risolvere questo problema sulla zona sud dal fiume Metauro verso Metaurilia sono stati stanziati 4 milioni e 200 mila euro partiranno i lavori a breve serviranno altre risorse per migliorare le condizioni turistiche di quella zona ma abbiamo sicuramente risolto il problema di Sassonia che era un problema annoso non solo per il turismo e non solo per gli operatori turistici ma anche per i cittadini, per le abitazioni credo che di lavoro ne sia stato fatto tanto compreso anche il sostegno a tutti gli eventi importanti della città ma ripeto, questo lavoro che ho fatto per Fano su cui la difesa della costa e il dragaggio del porto sono forse gli elementi più importanti vorrei ricordare ad esempio il finanziamento della ciclovia adriatica la pista ciclabile Ponte Sasso-Marotta-Senigallia ma anche la ciclovia del Metauro che deve essere ancora realizzata ma che prevede un finanziamento di 4 milioni e mezzo a fianco della ferrovia Fano-Urbino sono scelte importanti, finanziamenti importanti ma che mi hanno visto impegnato anche sul resto della provincia di Pesio-Urbino guardando con attenzione anche le aree interne perché le aree interne hanno pari dignità alla costa tutti devono avere le stesse opportunità Un tema scottante resta quello della sanità perché i suoi avversari naturalmente attaccano questo governo regionale proprio per la questione ospedale C'è da dire però che sull'ospedale di Fano c'è un atto ed è un protocollo tra il comune di Fano e la regione Marche è un atto legale che comunque sancisce delle priorità in virtù di ciò le chiedo l'ospedale di Fano, il Santa Croce, resterà aperto? Sì, il Santa Croce rimarrà aperto rimarrà aperto non solo adesso fino a quando sarà realizzato il nuovo ospedale di Marche Nord ma rimarrà aperto anche dopo mi spiego meglio il Santa Croce rimarrà aperto fino alla costruzione del nuovo ospedale con i servizi che eroga attualmente e quindi non ci sarà un depauperamento di servizi fino alla costruzione del nuovo ospedale che verrà realizzato dopo la realizzazione del nuovo ospedale il Santa Croce continuerà ad essere aperto con tutta una serie di servizi che sono i servizi di cui i cittadini hanno bisogno quotidianamente e quali sono il pronto soccorso con tutti i codici colore la terapia intensiva il servizio di anestesia il day hospital oncologico il servizio dialisi la lungodegenza la riabilitazione la specialistica ambulatoriale la diagnostica per immagini che sono la TAC i raggi X la risonanza magnetica l'ecografia eccetera ecco tutti questi servizi di cui il laboratorio analisi tutti questi servizi di cui il cittadino ha bisogno quotidianamente rimarranno al Santa Croce anche quando sarà realizzata la nuova struttura quindi anche dopo la realizzazione della nuova struttura una cosa importante il protocollo è stato il frutto di un grande lavoro che è stato fatto che ho seguito personalmente che è stato suffragato da due delibere una della giunta regionale una della giunta del comune di Fano che di fatto mette in chiaro il documento con i contenuti delle cose che ho detto ma ci sono altre cose che poi dirò ma la cosa importante che abbiamo fatto dopo l'approvazione del protocollo è stata un'altra l'aver portato il protocollo all'interno del piano sociosanitario regionale quindi l'atto di programmazione sanitaria per eccellenza vede il protocollo Fano come non solo riconosciuto ma anche come punto di riferimento come modello quindi gli abbiamo dato una maggior valenza dal punto di vista giuridico e nel piano sociosanitario si dice di fatto che il protocollo Fano viene preso a modello anche per la costruzione dei nuovi ospedali di Civitanova Macerata e di Ascoli San Benedetto quindi gli abbiamo dato una forza enorme al protocollo in modo tale che possa diventare indiscutibile anche per il futuro ed è una garanzia per la comunità di Fano per i cittadini che troveranno nel Santa Croce i servizi anche quando ci sarà il nuovo ospedale il protocollo peraltro prevede anche tutta una serie di altre cose tra cui 20 milioni per la nuova viabilità verso nord in direzione Pesaro che il Comune di Fano ha recentemente deciso come utilizzare gli 80 nuovi posti letto a disposizione della città e del territorio che riguardano 40 posti letto di residenza sanitaria assistita 20 posti letto di cure intermedie 20 posti letto di residenza protetta per anziani sono 80 posti letto di cui la città di Fano e il territorio ne sentivano assolutamente l'esigenza i lavori partiranno a settembre è già tutto pronto c'è già il riconoscimento fatto con gli atti ufficiali da parte della Regione quindi diciamo che di qui a un anno, un anno e mezzo avremo oltre i 20 posti letto della Casa per Anziani di San Lazzaro altri 80 posti letto destinati proprio alle esigenze dei cittadini e questa credo che sia una cosa estremamente importante poi ci sono anche i 50 posti letto previsti per una clinica privata ma questa ancora dovrà maturarsi nel tempo perché il Comune dovrà vendere l'area ma che serviranno sostanzialmente per abbattere la mobilità passiva che noi soffriamo verso l'Emilia Romagna quindi diciamo che da questo punto di vista le parole, le chiacchiere, le dichiarazioni che stanno facendo anche alcuni colleghi candidati non sono soffragate dai fatti ci sono i documenti, ci sono gli atti formali ci sono gli impegni e questi impegni quando sono atti formali non sono in discussione e quindi bando le chiacchiere il Santa Croce rimarrà aperto oggi e domani Bene Minardi, infine le chiedo perché si candida e perché dovrebbero votarla? Mi ricandido perché in tanti me lo hanno chiesto me lo hanno chiesto da Fano, dall'entroterra anche per dare continuità al lavoro svolto e ai risultati importanti che abbiamo portato al territorio non solo a Fano ma anche negli altri comuni della provincia di Pesorurbino mi sento di poter continuare questo lavoro perché c'è da pensare alle marche del futuro alle marche del domani alle marche del 2030 marche che devono essere più giuste più competitive e quindi su questo c'è ancora tanto lavoro da fare e su questo mi sento di prendere un impegno e di spendermi con la coerenza la serietà e l'impegno di sempre il mio slogan è ci sono con te ci sono significa che io sono sempre a disposizione il mio telefono è sempre aperto Pasqua, Natale, Capodanno, Ferragosto rispondo al telefono perché è giusto che sia così perché chi fa politica è a disposizione dei cittadini di quei cittadini che ti hanno fiducia ma di tutti i cittadini che comunque rappresenti anche di quelli che non ti hanno votato e ci sono con te significa un rapporto diretto con il cittadino che rappresenti quando sei eletto nelle istituzioni e poi c'è un altro passaggio che mi piace ricordare sempre mi piace lavorare tra la gente e per la gente perché se stai in mezzo alla gente se stai in mezzo ai cittadini riesci a capire i problemi che ci sono i problemi che devi affrontare e se capisci il problema hai la competenza quando sei nel tavolo dove si prendono le decisioni quindi tra la gente e per la gente significa rappresentare la comunità noi abbiamo un territorio straordinario un territorio meraviglioso ricco di arte, di storia, di cultura, di imprese abbiamo passato anche anni difficili a causa del terremoto, del crack di Banca Marche della pandemia ma dobbiamo guardare avanti dobbiamo guardare al futuro c'è tanto lavoro da fare tanti me lo hanno chiesto mi sento di continuare questo percorso di continuare a lavorare per tutti coloro che mi hanno dato fiducia ma soprattutto per la nostra meravigliosa comunità marchigiana bene, il tempo a nostra disposizione termina qua grazie a Renato Claudio Minardi per essere stato con noi grazie a voi grazie al gentile pubblico a casa e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.